Spazio di una sola settimana. Ne è bastato mettere il naso fuori per ritrovarsi all'inferno. La continuità, questa sconosciuta, la vittoria ottenuta contro l'Empoli è stata spazzata via con la stessa velocità con cui Babacar si è preso gioco della difesa a Maranto. Le accelerazioni dell'attaccante senegalese, una sorta di incubo per la regina di Azzori che al Braglia vede le streghe, incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate e quel che più conta scivola sempre più giù in classifica. Il quintultimo posto adesso è una triste realtà ed apre scenari inquietanti. D'accordo, mai come stavolta le attenuanti non mancano, ma le assenze di Di Michele, Maicon e Cocco, l'infortunio di Foglio fuori dopo appena 39 minuti e soprattutto l'espulsione di Fischnaller che finisce sotto la doccia al tramonto della prima frazione, non bastano certo a giustificare l'ennesimo tonfo in versione viaggio. Anche Azzori dovrà prenderne atto. La sua regina continua ad accendersi a sprazzi, non punge e quel che più conta prende gol con una facilità a tratti disarmante e spesso anche al primo affondo. Era già caduto a Crotone, la storia si è ripetuta anche al Braglia dove Azzori si presenta con un organico ridotto all'osso spazio dunque all'ennesima formazione diversa, una sorta di 3-4-2-1 con il giovane Di Lorenzo a fare il Maicon e Fischnaller preferito a Mazza una scelta che non paga, anche se a dire il vero la regina cerca subito di prendere in mano il pallino del gioco peccato che alla prima vera indecisione il Modena passi alla cassa. Babacar sfonda sulla sinistra, la difesa gioca le belle statuine e per Bianchi tutto solo è un gioco da ragazzi, battere così benassi sono trascorsi appena 13 minuti e la gara per gli Amaranto è già in salita anche se la regina prova comunque a reagire ma che non si è aggiornata, lo capisci quando Pinzoglio sbatte la porta in faccia a Lucioni intanto Azzori perde anche foglio per infortunio e arruola Caballero ma a rendere ancora più complicato il pomeriggio ci pensa uno sciagurato Fischnaller l'attaccante al tuotesino si guadagna due ammunizioni nel giro di un minuto e Manganiello non può far altro che mandarlo sotto la doccia regina in dieci e la collina diventa montagna, una montagna difficile da scalare per una regina che tuttavia ci prova con orgoglio pur senza mai impenserire seriamente la difesa gialloglu e neppure gli ingressi di Luzzada e Mazza spostano gli equilibri anche perché il Modena chiude gli spazi e riparte di rimessa ed è proprio su una ripartenza che la Novellino Band chiude i giochi minuto 42, Molina scherza così di Lorenzo e si guadagna un calcio di rigore che Babacar realizza con freddezza sui titoli di coda arriva anche il terzo gol, la firma è del solito Babacar che da posizione defilata batte Benassi con un destro chirurgico alla Balotelli, il braglia e ai suoi piedi gli applausi tutti per lui la regina invece finisce ancora una volta dietro la lavagna, prepariamoci ad un'altra settimana di passione